Con Gaetano essendo figlio di emigrato e tutti e due nella stessa regione in Francia, nello stesso paese, i nostri genitori soprattutto erano collegati perché dallo stesso paese si trovavano a lavorare nella stessa ditta, abitavano nello stesso paese e noi per tradizioni, sabato e domenica, eravamo sempre tutti insieme, tutti con paesane, con le famiglie, passavamo le feste, i compreanni in Francia, esattamente, da Marie-Leris e Moulin, due cittadinanti dove hanno accolto questi lavoratori venuti da Bella che sono trappiantati in Francia. Sabato mattina, sabato mattina, vedendo il giornale, vedendo la televisione che c'era stata questa attentata al cappuccino in Burkona Faso, io essendo amico con lui, sapevo che avevo questo locale, la prima cosa che ho fatto è che mi sono messo in contatto, però senza riuscire, senza riuscire, non rispondevo mai a nessuno, per ore e ore ho provato a chiamare, ho mandato dei messaggi, finalmente verso le 5, 5 e mezzo la sera il fratello mi ha risposto e mi ha detto questa brutta notizia che quattro membri della sua famiglia di Gaetano erano stati ammazzati. Gaetano venne in azienda perché era interessato a portare i nostri prodotti lì da lui nel suo locale e anche in altri locali per poter far conoscere i nostri prodotti tradizionali dell'ambito del territorio bellese. Venne lui, venne accompagnato da Vito Travertino, suo amico, venne in azienda, venne a visitare l'azienda, venne ad assaggiare i nostri prodotti e che voleva fare uno scambio commerciale con la nostra azienda. Poi purtroppo non siamo riusciti a coordinarci, ad attrezzarci con lo scambio dei nostri prodotti con lo sdoganamento del prodotto non ci siamo riusciti ad organizzare per poter fare questa operazione. Sì, è una inizia sconvolgente, abbiamo appreso appunto ieri, diciamo, proprio resi conto dell'accaduto e la notizia ha fatto un tantamma all'interno della nostra comunità, del nostro paese. Oggi stiamo cercando di metterci in contatto con Gaetano, attraverso i conoscenti, c'è un ex dipendente che è suo amico, abbiamo mantenuto i rapporti, abbiamo contattato il fratello, però chiaramente in questo momento, nel momento del dolore, del silenzio, noi siamo vicini a loro, siamo vicini alla famiglia, vanno tutte le conteglianze della nostra comunità, stiamo in attesa di attendere quelle che sono le notizie, dove saranno svolti i funerali.